L'andamento della pandemia vede oltre 9.000 nuovi casi in Italia, aumenta leggermente il tasso di positività in Sicilia, 412 nuovi casi, 19 morti. Partita nel weekend la campagna vaccinale per gli over 80 in Sicilia, i presidi ospedalieri di Paternò, Biancavilla e Bronte centri vaccinali. Intanto calano ancora i casi nel nostro comprensorio. Sul fronte Covid-19 il primo decreto Draghi dispone la chiusura dei confini tra regioni e lo stop a visite in zona rossa, confermate le limitazioni nelle zone gialle e arancioni. È stato denunciato dai carabinieri il 64enne di Maletto che nei giorni scorsi si era allontanato dall'ospedale di Biancavilla, nonostante fosse ancora ricoverato avendo contratto il Covid. Università di Catania da lunedì 1 marzo avranno il via alle attività didattiche del secondo semestre 2020-2021. Le lezioni si terranno in modalità mista, sia in presenza sia a distanza, in diretta streaming e in differita registrata. Resta chiuso il viadotto lungo la provinciale 15 in territorio di Belpasso, la strada fondamentale per le aziende della zona industriale di Paternò e per alcune realtà belpassesi. Il cancello d'ingresso del santuario Maria Santissima della Sciara di Montpileri è stato distrutto a seguito di un incidente verificatosi ieri ad ora di pranzo. Un'auto, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro il cancello e il muretto per poi darsi alla fuga. Lettera della Commissione Sociopastorale del XII Vicariato Paternò Ragalna, un appello ad unire le forze contro la povertà economica e sociale. Buonasera, benvenuti a questa nostra consueta edizione del telegiornale. L'andamento della pandemia vede oltre 9.000 nuovi casi in Italia. Aumenta leggermente il tasso di positività in Sicilia, curva stabile, ma tornano ad aumentare i positivi. Tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Meno casi ma anche meno tamponi. Come ogni inizio settimana i casi sono in ribasso, ma sul dato pesa sempre l'effetto weekend sui test processati. I nuovi contagi sono 9.630 su oltre 170.000 tamponi processati tra molecolari antigenici, con un tasso di positività del 5.6%. 274 i decessi con e per covid nelle ultime 24 ore. Quasi 96.000 da inizio pandemia esplose esattamente un anno fa col primo caso accertato a Codogno. I guariti sono stati oltre 10.000. Gli attuali positivi, cioè coloro che attualmente hanno il virus, calano di circa un migliaio e adesso sono in tutto quasi 388.000. Di questi, oltre 367.000 sono asintomatici in isolamento domiciliare. Aumentano i malati intubati nelle terapie intensive e nel saldo tra ingressi e uscite. Sono 24 in più per un totale di 2.118, mentre in degenza ordinaria ci sono 351 posti letto in più per un totale di 18.155 ricoverati a causa dei sintomi dell'infezione. In Sicilia 412 nuovi casi su oltre 18.000 tamponi esitati tra molecolari e rapidi, con un tasso di positività del 2.2%. 19 decessi nelle ultime 24 ore, poco più di 4.000 da inizio pandemia. 206 guariti, pochini per la verità e dunque gli attuali positivi, aumentano di 187 unità per un totale di 29.367. Si abbassa leggermente la pressione sugli ospedali siciliani. In terapia intensiva ci ho malato intubato in meno rispetto ieri per un totale di 142, mentre in degenza ordinaria il calo è stato di tre posti letto per un totale di 843. 51 i casi nella provincia di Catania nelle ultime 24 ore. Palermo la più colpita con 236 nuove infezioni. Partita nel weekend la campagna vaccinale per gli over 80 in Sicilia. I presidi ospedalieri di Biancavilla, Bronte e Paternò centri vaccinali. Intanto calano ancora i casi nel nostro comprensorio. Ad Adrano sono 108. Gli attuali positivi. Scattata la campagna vaccinale per gli over 80 in Sicilia, dunque per quella fascia di popolazione che necessita di aver quanto prima gli anticorpi contro il virus. Nel nostro territorio i centri di vaccinazione sono gli ospedali di Biancavilla, Paternò e anche Bronte. In quest'ultimo presidio ospedaliero sabato e domenica sono state iniettate 108 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech ad anziani, alcuni dei quali provenienti anche da Adrano. Si tratta ovviamente della prima dose del siero. Tra 21 giorni sarà necessario fare il richiamo. E il siero Pfizer-BioNTech è stato iniettato anche a Paternò e Biancavilla. Per quanto riguarda il bollettino nel nostro comprensorio, buone notizie arrivano ad Adrano dove i casi sono in forte discesa. Il nuovo rialineamento dei dati da parte dell'Aspere ferta 108 casi attivi in città, 14 in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Due gli ospedalizzati, mentre i soggetti in isolamento fiduciario sono 96. Intanto in questi giorni ad Adrano screening epidemiologico con tamponi rapidi per ogni istituto scolastico. I test antigenici saranno svolti a studenti, docenti e personale scolastico. Oggi è stato testato il liceo Verga. Diminuiscono leggermente i casi a Biancavilla rispetto all'ultimo aggiornamento. 126 attuali positivi di cui due ospedalizzati. Continua a scendere la curva epidemiologica a Paternò. 52 casi attivi di cui tre ospedalizzati, mentre i soggetti in isolamento fiduciario in attesa del tampone molecolare sono 104. 65 positivi a Bronte, 59 a Belpasso. Sabato intanto a Santa Maria di Licodia screening epidemiologico sulla popolazione scolastica. 285 tamponi rapidi effettuati con modalità Drevinne. 7 i casi di positività riscontrati, di cui tre sono alunni. E sulle fronte Covid. Primo decreto Draghi dispone la chiusura dei confini tra regioni e lo stop a visite in zona rossa. Confermate le limitazioni nelle zone gialle ed arancioni. Sentiamo. Sul fronte legato alla gestione dell'emergenza Covid-19, oggi il Consiglio dei Ministri, il primo del governo Draghi, in relazione a questo argomento, ha approvato un nuovo decreto legge contenente diverse misure anti-Covid. Tra queste anche la proroga riguardante il divieto di spostamenti tra regioni fino al prossimo 27 marzo, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Confermate dal nuovo decreto le limitazioni nelle zone gialle e arancioni, comprese quelle di orari e numero di persone, due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni, per gli spostamenti per le visite private. Gli spostamenti appunto verso le abitazioni private saranno consentiti tra le 5 e le 22 in zona gialla all'interno della stessa regione, in zona arancione all'interno dello stesso comune. E sempre in relazione a questi ultimi, così come disposto dal nuovo decreto, non saranno consentiti nelle zone rosse. Queste alcune delle richieste elencate dal Ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, nel corso del Consiglio dei Ministri, richieste messe a punto dalla Conferenza delle Regioni proprio per la gestione dell'emergenza Covid, richieste inviate dagli uffici del Ministro a tutti i Ministeri. Conoscere con congruo anticipo le misure anti-Covid, predisporre un cambio di passo che consenta di coniugare le misure di sicurezza sanitaria con la ripresa economica e delle attività culturali e sociali. Nuovi e più snelli meccanismi che vedano una definizione più chiara da parte del Comitato Tecnico Scientifico e dell'Istituto Superiore di Sanità riguardo alle limitazioni e alle attività da chiudere. E poi ancora forme di congedo parentale, ulteriori risorse economiche a sostegno dei genitori nel caso di chiusure delle scuole, oltre alla vaccinazione di tutti i docenti, indipendentemente dalla regione in cui prestano servizio. Sarebbe auspicabile e urgente, hanno inoltre dichiarato le regioni, una valutazione circa il diretto coinvolgimento delle nostre aziende nel processo produttivo, tenendo presente che vi siano aziende e filiere nazionali in grado di realizzare alcune fasi della produzione. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca nera. È stato denunciato dai carabinieri le 64enne di Maletto che nei giorni scorsi si era allontanato dall'ospedale di Biancavilla nonostante fosse ancora ricoverato avendo contratto il Covid. È scattata la denuncia per il paziente Covid di Maletto che nei giorni scorsi si era allontanato dall'ospedale di Biancavilla senza avvisare nessuno. Con una nota stampa del comando provinciale, questa mattina è stato comunicato che i carabinieri della stazione di Maletto hanno denunciato una 64enne del posto per inosservanza di un ordine emesso per impedire la diffusione della malattia. L'uomo dopo aver contratto il Covid era stato ricoverato all'ospedale Maria Santissima addolorata di Biancavilla con tanto di polmonite interstiziale ma nonostante il severo quadro clinico abbandonò il nosocomio senza avvertire nessuno. Una fuga clamorosa che sorprese non poco il personale medico e paramedico. Il paziente prese la littorina e raggiunse la madre ma non è tutto. Il paziente di Maletto prima ancora di recarsi a casa ha fatto anche la spesa in un supermercato. Un atteggiamento incomprensibile che è stato interrotto dai carabinieri di Maletto in Biancavilla i quali lo hanno prima localizzato presso l'abitazione della madre e quindi fatto assistere dal personale medico dell'USCA di Randazzo e del 118 di Bronde che poi ha provveduto a riaccompagnarlo presso l'ospedale dal quale era fuggito. E adesso parliamo dell'Università di Catania. Da lunedì 1 marzo avranno il via le attività didattiche del secondo semestre 2020-2021. Le lezioni si terranno in modalità mista sia in presenza sia a distanza, in diretta streaming e in differita registrata. così come annunciato dall'Università degli studi di Catania le attività didattiche del secondo semestre 2020-2021 avranno il via il prossimo lunedì 1 marzo. Approvata la modalità mista ovvero sia in presenza sia a distanza, in diretta streaming e in differita registrata per quello che riguarda le lezioni. Nel caso della modalità in presenza così come specificato tutti gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale saranno impartiti dal docente in una delle aule del Dipartimento di Riferimento o in un'altra struttura universitaria ritenuta idonea nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dai protocolli di sicurezza. Nello specifico le lezioni si potranno tenere dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Il calendario dettagliato relativo alle lezioni di ciascun corso di studi sarà pubblicato sul sito del Dipartimento di Afferenza ed associato all'applicativo per la prenotazione settimanale del posto in aula. Al fine di riuscire ad individuare il codice di riferimento di ogni singolo insegnamento, codice necessario per l'accesso alla piattaforma e per la partecipazione alle lezioni a distanza in diretta streaming, si potrà fare riferimento al sito web del corso in questione. Tutte le lezioni saranno registrate e così come specificato sul sito dell'Università degli Studi di Catania resteranno disponibili per almeno tre mesi. Per quello che riguarda il sistema di prenotazione del posto in aula, quest'ultimo sarà attivo a partire dalle 9 di giovedì 25 febbraio. Per accedere all'applicativo basterà selezionare dal menu generale del portale studenti la voce prenotazione lezioni in aula. La prenotazione sarà effettuata su base settimanale. Per la prima settimana dall'1 al 6 marzo sarà possibile prenotarsi da giovedì 25 febbraio a domenica 28 febbraio. A partire dalla settimana successiva, per poter assistere alle lezioni della settimana, le prenotazioni si apriranno il lunedì e si chiuderanno il mercoledì. Il sistema di prenotazione assegnerà un posto in aula fino al numero massimo dei posti disponibili, ossia tra il 40% e il 60% della capienza ordinaria. Se i posti in aula dovessero essere esauriti sarà offerta allo studente la possibilità di prenotare in via prioritaria un posto per la settimana successiva. È importante cancellare, fanno sapere dall'università, la propria prenotazione se non si è certi di poter essere presenti in aula. Al momento della prenotazione del posto in aula lo studente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di divieto previste dalle norme vigenti in tema di prevenzione del contagio da Covid. Passiamo adesso alla viabilità. Resta chiuso il viadotto lungo la provinciale 15 in territorio di Belpasso, la strada fondamentale per le aziende della zona industriale di Paternò e per alcune realtà belpassesi. Resta chiuso il viadotto lungo la provinciale 15 tra Paternò e Belpasso. A disporne la chiusura è stata la scorsa settimana la città metropolitana dopo l'addenneggiamento di due travi del ponte causato da un camion che trasportava un escavatore. L'incidente è avvenuto giovedì scorso mentre il mezzo pesante transitava sulla statale 121. La Paternò Catania. Secondo una prima ricostruzione pare che giunto all'altezza del ponte l'escavatore ha colpito il La Cavalcavia danneggiando come detto due travi. I danni non sembrano gravi tanto da richiederne l'abbattimento come è avvenuto per il La Cavalcavia tra Mister Bianco e Motta Sant'Anastasia ma per precauzione la città metropolitana ha deciso la chiusura della strada. Resta il timore per le tante aziende del territorio visto che l'arteria viaria è l'anello di congiunzione da Catania per la zona industriale di Tre Fontani a Paternò oltre a servire le tante aziende anche di rilievo nazionale che ricadono in territorio di bel passo e che sono servite proprio dalla provinciale 15. Da qui l'appello a fare presto per evitare la catastrofe economica in un momento tra l'altro già difficile con il territorio piegato della crisi determinata dal covid-19. Non c'è dunque tempo da perdere bisogna rapidamente capire come agire sul ponte ed effettuare l'intervento di messa in sicurezza. E sull'argomento interviene l'assessore alle frazioni del comune di Belpasso Andrea Magri entrato in contatto sia con l'ANAS che con la città metropolitana. Dall'ANAS mi è stato evidenziato afferma l'assessore Magri che daranno un incarico tecnico per poter valutare l'entità dei danni e la possibile riapertura del ponte. Nei prossimi giorni ci diranno se il danno è importante oppure no. Pare siano state intaccate due travi su 13 del viadotto. Resta ancora da capire, dice ancora l'assessore Magri, se l'intervento dovrà farlo la città metropolitana che ha competenza sul cavalcavia o l'ANAS che ha competenza sulla statale 121. La cosa più importante che ho chiesto, conclude Magri, è la necessaria. riapertura della strada come comune, stiamo comunque cercando una via alternativa che possa intanto sostituire il viadotto. Il cancello di ingresso del santuario Maria Santissima della Sciara di Montpileri è stato distrutto a seguito di un incidente verificatosi ieri ad ora di pranzo. Un'auto, per cause ancora da chiarire, si è schiantata contro il cancello e il muretto per poi darsi alla fuga. Immagini che lasciano senza parole quelle relative alle condizioni in cui versa l'ingresso del santuario Maria Santissima della Sciara di Montpileri. Nella giornata di ieri, per l'esattezza, ad ora di pranzo, un'auto, così come ci ha raccontato padre Alfio Privitera, rettore del santuario, si è schiantata contro il cancello e il muretto di ingresso per poi darsi alla fuga. Siamo in collegamento telefonico con padre Alfio Privitera, rettore del santuario Maria Santissima della Sciara di Montpileri. Padre Alfio, un terribile incidente, quello di ieri proprio ad ora di pranzo. Ci vuole raccontare cosa sia successo? Sì, pace e gioia. Noi eravamo fuori e abbiamo trovato quello che era successo e abbiamo avuto la testimonianza soltanto di qualcuno che ha visto un'automobile poi distrutta sul davanti che veniva trascinata da un'altra automobile per portarla da qualche parte. Quelli non hanno fatto caso al resto. E niente, è un grosso guaio perché sulla strada che da Belpasso conduce al santuario qualcuno era sicuramente lanciato. Quando si è reso conto che arrivava vicino ad un incrocio e che aveva davanti a sé, oltre l'incrocio, la parete e l'accesso laterale del santuario non avrà potuto frenare. Ci sono sulla strada i segni di una lunghissima frenata, quasi 100 metri, e si è andato completamente a schiantare, cancellando, annullando completamente l'ingresso laterale del santuario. Guardi, il danno per noi è grosso, anche perché lei comprende il periodo in cui ci troviamo. Però il pensiero va intanto alla salute di questa persona, che lasciamo perdere che non ci ha assunto le sue responsabilità. Va alla salute di questa persona. Ma noi, sinceramente, ieri sera nelle messe abbiamo ringraziato la Madonna della Sciara, abbiamo ringraziato il Signore, perché come non ci sia stata una tragedia di anche più morti, perché bastava che solo un'automobile incrociasse a ridosso della parete del santuario, del recinto del santuario, incrociasse questa freccia, questo proiettile che si è andato a creare per distruggere anche un'intera famiglia. Che lei pensi che un muro in doppio strato di basalto, cemento armato, ringhiera, il cancello che sta di lato, eccetera, tutto completamente annientato, distrutto. Quindi veramente c'è da ringraziare il Signore e speriamo che questa persona, magari piuttosto che bestemmiare, pensi a ringraziare il Signore. Lettera della Commissione Sociopastorale del XII Vicariato Paternò Ragalna. Un appello ad unire le forze contro la povertà economica e sociale. Vediamo. Una lettera per accendere i riflettori sulla difficile situazione sociale ed economica della città di Paternò. A prendere carta e penna e scrivere alla città è la Commissione Sociopastorale del XII Vicariato di Paternò Ragalna, che di fronte all'emergenza sociale causata principalmente dalla crisi economica del territorio, chiede di unire le forze, lavorare, non restare solo a guardare. Ancora una volta è la società civile che si muove per tentare di trovare la strada per dare quelle risposte che le fasce più deboli del territorio attendono. Una riflessione questa della Commissione Sociopastorale che guarda la situazione vissuta da tanti paternesi ma anche da tanti immigrati interi nuclei familiari che vivono in assoluta povertà. Se da un lato si assiste ad una grande disponibilità nell'azione di solidarietà, si legge nella lettera mirata a tamponare disagi più immediati e urgenti, basti pensare che la mensa sociale ha quasi raddoppiato i passi distribuiti giornalmente. Dall'altro si constata con amarezza l'incapacità ad avviare iniziative condivise in grado di dare risposte più durature e sicuramente indispensabili per superare quell'individualismo sociale che è il cancro di questa nostra città. È auspicabile promuovere in un contesto di amicizia sociale una rete solidale tra istituzioni locali, forze sociali e produttive, università e centri di ricerca, associazioni no profit, per elaborare e realizzare progetti a medio e lungo termine, creando nuove opportunità formative di lavoro, di valorizzazione del territorio e della cultura locale, includendo le periferie e le fasce più deboli del nostro contesto sociale e territoriale. Occorre, si legge ancora nella lettera della Commissione, prendere consapevolezza che se è vero che lo Stato e i Comuni non possono deresponsabilizzarsi e lasciare la patata bollente alla Caritas e alle altre associazioni, se è altrettanto necessario un ripensamento dell'attuale modello di economia politica, che sta generando sempre più profonde diseguaglianze, è altrettanto vero che ognuno di noi deve fare la propria parte, non solo nella carità immediata, cibo, denaro, coperte, ma soprattutto nel comprendere ciò che i poveri hanno da dirci con la loro semplice presenza, che la povertà materiale è figlia di una più generale povertà umana, povertà di relazioni, di educazione, di cultura, di diritti sempre più ridotti a privilegi, sottomessi alla logica del profitto. Va combattuta la povertà, conclude la lettera, non i poveri. La Commissione invita quanti volessero partecipare a questo progetto a mettersi in contatto con il blog www.scialla.it. Questo era l'ultimo servizio, si conclude così l'edizione di questa sera del nostro telegiornale, come sempre per tutti gli aggiornamenti, l'appuntamento è all'edizione di domani alle ore 13.30. Buona serata. Buona serata.